Antonio Volpe è Head of External Distribution di Amundi SGR, ecco un elemento della vostra strategia di investimento responsabile è la transizione energetica. Si direi che ci stiamo impegnando ormai da diversi anni nell'investimento responsabile sia nel piano triennale 2018 2021 abbiamo già inserito criteri ISG all'interno di tutti i nostri fondi a gestione attiva e questo obiettivo è stato già raggiunto. Adesso nel piano triennale di Amundi quindi dal 2022 al 2025 ci impegniamo anche a voler inserire un nuovo ranking di transizione ecologica che applicheremo per valutare le aziende nelle quali investiamo al fine di impattare sui loro processi di investimento e ridurre l'impronta di carbonio quindi decarbonizzare i loro bilanci. Quindi lavoriamo in diversi ambiti abbiamo già creato un range di fondi net zero sulle diverse asset class quindi azionario, obbligazionario e multi asset. Un altro ambito di grande interesse è quello sulla filiera dell'idrogeno dove c'è un fondo ormai dedicato a questo tema lanciato poco più di un anno fa e che ha già raccolto un miliardo di euro. Da parte della clientela c'è un interesse crescente verso questo tipo di investimenti e aggiungerei non solo per una questione di rendimenti ma anche per una questione dell'importanza del tema. Si direi che gli investitori accolgono molto bene queste soluzioni perché si rendono conto che partecipano al cambiamento, partecipano al cambiamento, alla transizione energetica e come sappiamo dobbiamo raggiungere a breve degli obiettivi molto importanti ad esempio il net zero entro il 2050 e quindi anche l'industria del risparmio gestito sta aiutando, sta facendo confluire il risparmio degli investitori verso soluzioni che ci aiutano a raggiungere questo importante target. Grazie Antonio Volpe